Aia! Potevate sopravvivere senza il mio video sulla novità in casa Nabla? Non credo! Infatti eccomi in vostro soccorso a farvi vedere tutte le nuance e raccontarvi qualche caratteristica su i nuovi Beyond Jelly. Sono i 10 nuovi rossetti di Nabla la cui caratteristica è il finish glossato che rimpolpa le labbra, le mantiene idratate, sono effetto glossy ma non migrano. Piccola curiosità, contengono una ceramide estratta dal processo di biofermentazione che migliora l'aspetto e la salute delle labbra. Intengono anche l'estratto di portulacca che migliora la parvenza delle labbra e anche il tripeptide 38 che pare vada a stimolare la sintesi di erastina a collagene e acido liaronico sulle labbra. Che sono quelle sostanze che con le tab se ne vanno, dicono ciao, ho già dato e ti lasciano lì con le labbra che rientra. Detto questo, le 10 colorazioni sono bellissime, hanno un bellissimo finish sulle labbra, rimpolpano naturalmente. Con questo effetto glossy e l'aspetto che ho particolarmente apprezzato è che non migrano.